la prima cosa per prima cosa grazie a fabrizio schembri di cui occhieggio nella carriera classe 81 saranno non ho controllato se sia ancora in attività ma dopo ascoltato non vorrei avesse smesso nel 18 no ma l'ho visto anche a non lo dovrebbe essere ancora in attività comunque caro fabrizio intanto grazie ecco io ricordo gli europei a squadre di stoccolma partiamo da lì tanto sul palmarès no mi piacerebbe che me lo snocciolasse lei proprio in ordine di successi di importanza insomma giochi del mitraeraneo non lo trovo così anche i mondiali militari diverso invece il verozzo della coppia l'europa di ansi vedo qua ecco la finale mondiale a mosca splendida in tre europei quelli li avevo seguiti euro indoor esatto infatti da ricordo campione italiano in carica nel salto triplo esattamente anche se vedo che mancano mancavano i risultati dell'ultimo anno quarto al coperto ecco tanto la carrellata sulle società tanto quando fu il primo tesseramento quanti anni aveva perché ha scelto il triplo e non in lungo la magia del del salto triplo appunto così in là se c'è una affinità per esempio con l'asta sono molto amico di giuseppe gibirisco anzi devo sottoporlo ad analogo test e siciliano mi diceva che lassù è come volare poi la tecnica la galleria di allenatori che ha avuto gli infortuni gravi se ci sono stati i momenti belli e quelli meno positivi il bel duello a distanza con donato no con fabrizio donato il bel duello a distanza con daniele greco che purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni e quindi un duello a distanza che è durato poco la scuola italiana la galleria di campioni credo ci siano stati e di atleve giuseppe gentile certamente messico 68 prima artista mondiale per 20 minuti ricordo la storia anche una galleria fabrizio di personaggi al femminile poi punti di riferimento a livello mondiale jonathan isworth la cavalletta e i suoi fratelli consideri che sono stato al principato di monaco per la diamond league e li ho conosciuto i bar guen intervistata e poi gli specialisti mondiali di cui non ricordo i nomi in questo momento due americani due americani come vede fabrizio anche il io parlo sempre del 2050 no come sarà il salto triplo fra 50 sarà 30 anni come sarà l'atletica in generale poi fabrizio i suoi giudizi le emozioni sull'atletica il fatto il privilegio di aver fatto di avere vissuto e magari di vivere tuttora quando avrà finito la carriera magari farà l'allenatore o il dirigente la galleria dei suoi personaggi i tre personaggi a cui deve di più allenatori dirigenti i passaggi dicevo tra le società sportive rovellasca brianza carabinieri rovellasca di nuovo e poi carabinieri le maglie azzurre eccetera e poi fabrizio la scuola italiana nella storia dove la dove la piazziamo insomma e gli approfondimenti piacerebbe che mi facesse vedere qualche video sugli approfondimenti delle tecniche di salto perché ci sono specialità come come triplo molto molto tecniche quanto incide la velocità ne parlavo anni fa per simona lambantia è vero mi disse che c'è per tutte ma tre soli tentativi non sono poche sono onestamente pochi grande preparazione poi pochi secondi di gara cosa cambierebbe nelle regole nella tecnica insomma magari non so ecco i metri c'è la dinamica di la tecnica di stacco quindi vorrei che mi raccontasse caro fabrizio e proprio da quanto prima si parte o quanto è lunga la quanta è lunga la rincorsa la velocità che si tocca l'affinità anche con altri sport che so si salta voi saltate si triplo viene in mente so se c'è un'affinità con i volley con il basket credo nulla è in salti in estensione poi quali sono i migliori allenatori del mondo magari una scuola emergente un paese emergente un paese invece calante e tutto quello fabrizio che le facesse piacere soprattutto il focus sul fuori dal campo i suoi hobby le sue giornate le sue letture se non si offende il fatto di non avere tanti capelli se ha inciso intervistato mi piace molto il costume fabrizio intervistato per caso cesare ragazzi sostiene che una persona che perde i capelli perde boh non ricordo ma 50 ma anche di più dell'autostima e sembra onestamente esagerato e proprio il fatto anche di essere così magro no sono ci sono discipline in cui c'è una fisicità molto superiore alla vostra e poi ancora fabrizio sul se esiste il fascino dell'atleta no lei sa e poi mi piacerebbe se volesse capitolo compensi no non parlando tanto di dei ma in generale degli atleti del suo livello del suo esercizio della sua specialità credo che tutta l'attenzione sia per i velocisti che doveva guadagni molti molto di più anche in contratti tipo filippo torto e così invece i concorsi molto meno il giavellotto insomma e cosa si può fare per rendere l'atletica più popolare consideri fabrizio che punto sono stato a monte carlo il giorno prima ero l'unico giornalista italiano presente alla conferenza di vigili e sono gratis e a me spese e tutto questo fabrizio lo faccio gratis e a me spese anche alle volte contro tutte contro tutti tra l'altro mi piacerebbe fabrizio le dicevo dei bei video da parte sua addirittura le potrei dare la passo del mio youtube in maniera che possa caricare lei a suo piacimento considerasse ma è una pro offerta che farò a tanti e vanno i zagnoli punto e come il suo sito cosa mi piacerebbe ricevere fabrizio beh al di là delle risposte il fatto poi di mandarle le domande in questa maniera come posso dire sono dei passaggi che proprio non accetta ovviamente li può dribblare senza problemi e quindi non c'è neanche magari quelle quell'espressione quel viso che tradisce nel botta e risposta in video no mi piacerebbe fabrizio che mi facesse vedere in video la galleria delle sue maglie azzurre dei suoi cimedi degli articoli insomma tutto il suo mondo anche il suo tempo libero se avesse dei dei hobby o delle collezioni singolari e poi i luoghi nei miei sogni ci sarebbe fabrizio mostrare ma insomma basta che lei non sia solo consegna il telefonino a qualcuno che lo fa partire lo ferma anche solo far vedere alcuni salti di allenamento la concentrazione il training il training autogeno anche non la concentrazione se avesse dei video anche datati magari importante magari che nessuno me li contesti come copyright insomma ancorché fabrizio con riprese amatoriali con domande estemporane spesso senza un filo logico anzi senso il filo logico c'è mi piacerebbe fare e diventa come un film un omaggio una sintesi della carriera che può rappresentare fabrizio un biglietto da visita umano e professionale suo tutto questo anche se vorrà declinato al femminile con le maggiori specialisti eccetera eccetera e poi naturalmente un passaggio su le differenze rispetto al salto in lungo che insomma grazie a carli us e a tanti altri era ed è credo comunque abbastanza più popolare del triplo e anche immagino abbastanza più pagato e direi che ci siamo ho solo il dubbio su giuseppe no gentile con triplista ok se a lei è mai accarezzato l'idea di fare come i bar guent ad esempio grazie davvero fabrizio